Il sugo finto, l'esilarante commedia di Gianni Clementi con Alessandra Costanzo e Paola Tiziana Crociani. Cos'è il sugo finto? Quel sugo che facciamo tutti a casa è quel pomodoro senza la carne, quindi pomodoro... Il pomodoro non è indispensabile, basta la conserva. Ecco la conserva, infatti è fatta di pomodoro, però se tu hai a disposizione i pomodori freschi che naturalmente sono molto più... Fai il sugo vero e non fai il sugo finto. Te ha sbagliato tutta il dolorato, è la signora per te. Eppure se fosse... Ma che pensai a fare l'impunità io? Ma perché? Ma io ce lavoro a bottega, dai pure mia, che faccio io un guadaglio. Ce lavoro... Ce lavoro, ce lavoro, non fai tutto te, lo sa? Mettete un testo, non fai tutto te. Ah, non ricominciamo con la solita pippa, eh? Ma dove andrà a fare il sugo? E va a fare il sugo, vado. Vado, vado. Ho comprato certi pomodori stamattina. Sai quanto ho pagliato? Trenta centesimi antico. Grazie. L'hai comprato i fracidi. Secondo me quando ci vedono si danno una bella grattaccia. Io non ne passo più, te sta sempre a questionare su tutto. Rosaria? Rosaria! Rosaria! Ah, lo sa, so passata in banca, mi so fatta fare strato conto, è incominciata la scesa, lo sa, e è, guardai meno, guardai che sfilzate meno. Io ancora non me capacito, a me ancora non me pare vero che non parli, non mi rispondi. Ho venduto il negozio, per questo ho trovato i dieci euro, domani comincia il trasloco. Tutto ho venduto, di mobili, di stoffe, di merletti, di bottoni e di pettucce, tutto! Per il negozio delle signorine in cesta a piove. Per il negozio delle signorine in cesta a piove. Per il negozio delle signorine in cesta a piove. Per il negozio delle signorine in cesta a piove.